La notte porta consigli, io l'ho detto sempre nell'ambito della scuola, nell'ambito del lavoro, nell'ambito di un hobby che amate fare se il problema persiste, io sono di questa idea, praticamente se il problema persiste si va a dormire pensando a quell'idea quando ci si sveglia, non lo so, la notte magica, la notte porta consigli, chiamate come volete voi per me, una volta svegliati la mattina, infatti mi sono svegliato anche prima della sveglia, perché oggi c'ho un appuntamento con un cliente e sono andato a risolvere il problema, il problema era una stronzata, ma per colpa della stanchezza, per colpa magari di altri fattori ovviamente la sera, non ci arriva quel lampo di genio, la mattina ragazzi, la mente è fresca, perché si dice andate a studiare, andate a lavorare, andate a fare una cosa importante che dovete fare in quella giornata e nella vostra vita, perché la mattina è il tempo migliore per poter affrontare i problemi oltre al pc che avete visto sul mio canale ieri, praticamente l'abbiamo risolto, ma era più una situazione software qui abbiamo un problemino, chi le l'hanno riparato, praticamente le hanno fatto sparire le ram e quindi il computer non parte, ma non credo che ci sia solamente questo, perché la ventola non parte e il processore non riscalda, quindi dobbiamo capire un pochettino sulla scheda madre dove sia il problema raga ma quanto sono belli questi marmi che sono andato a ricavare dalla vicina di sopra che ce l'aveva sul comodino, proprio le cose come si facevano una volta, sai le camere da letto, quelle fantastiche guarda, le doveva buttare, cioè ci siamo fatti una scrivania in marmo, qui postazione di lavoro, ottima che tempo di merda, finalmente in macchina, finalmente in macchina come vi ho detto, sono di corsa, sono di corsa perché uno non l'abbiamo ancora finito ed è quello lì con la scheda madre rossa invece il portatile che abbiamo riparato ieri, ho dovuto aggiungere solamente una piccola cosa stamattina ed era quello praticamente che la notte mi ha portato consigli e infatti poi sull'altro avrò un altro rompicapo però lo risolverò, lo risolverò di sicuro niente, andiamo a consegnare questo e dopodiché ci dedichiamo un pochettino anche alla famiglia, oggi è domenica meno male che siamo arrivati, siamo arrivati, porca miseria sulle statali come cavolo si slitta con la macchina cioè si creano delle vere puzzanghene, vabbè, meno male, meno male ok, molto soddisfatti, andiamo a risolvere il rompicampo che abbiamo a casa e possiamo vedere grazie a tutti ha grazie grazie a tutti